Ciao, sono Marco e nel video di oggi vedremo una guida pratica dell'add-on per Elementor Visibility Logic. Nei video precedenti che trovi in parte suggeriti qua sopra e gli altri all'interno del mio canale abbiamo visto a livello teorico come funzionano questo e altri add-on per Elementor. Abbiamo anche fatto tutta una panoramica riguardo al mondo di Elementor, quindi se non conosci ancora Elementor ti consiglio di andare a vedere nei video presenti nel mio canale. in modo da farti un'idea di che cosa sia Elementor questo rivoluzionario plugin per Wordpress. Nel video di oggi andremo appunto a vedere una guida pratica, quindi installeremo e utilizzeremo l'add-on Visibility Logic che appunto è un add-on che ci consente di appunto mostrare o nascondere parti del nostro sito con logiche di funzionamento. Quindi per quanto riguarda per esempio la visibilità o meno a seconda del ruolo utente o la visibilità o meno per quanto riguarda magari il browser o l'ora di navigazione e quant'altro. Abbiamo già visto questo nel video teorico appunto che trovo e suggerito comunque qua sopra. Quindi direi di non perdere a questo punto altro tempo e andare a vedere questa guida pratica. Stiamo parlando come anche nei video precedenti finora di add-on a livello gratuito. Infatti troviamo Visibility Logic all'interno della repository ufficiale di Wordpress. Possiamo installarlo scaricando lo zip e andando ad aggiungerlo direttamente dalla dashboard di Wordpress oppure andiamo a cercare dalla directory ufficiale di Wordpress all'interno però della nostra dashboard di Wordpress. Quindi cerchiamo Visibility Logic dal back-end del nostro Wordpress. Eccolo qua. Installiamo l'add-on e andiamo un pochettino a vedere che cosa ci consente di fare questo add-on in versione appunto light e quindi in versione non, in versione gratuita. Andiamo direi a prendere una pagina, quindi magari andiamo a visualizzarla per esempio l'about us, ok, torniamo un attimo dal back-end, la andiamo ad aprire in una nuova scheda, noi la modifichiamo con Elementor, vediamo che cosa ci consente di fare questo add-on. Quindi appunto quali logiche di funzionamento possiamo applicare. Direi che per quanto riguarda le logiche di funzionamento è meglio utilizzare le sezioni, quindi andiamo a prendere magari la seconda sezione, io direi lavoriamo direttamente su quelle che sono le sezioni, riproviamo, ok, è la sezione giusta. Direi che per questa sezione, ecco qua, abbiamo Stacks Visibility, quindi abbiamo questa nuova impostazione che è la logica di funzionamento. Possiamo scegliere se nascondere o mostrare questo blocco, in questo caso stiamo lavorando sull'intera sezione e a che condizioni, quindi tutti o almeno una condizione. Quindi scegliamo a quali condizioni. Poi possiamo scegliere queste condizioni sono quelle che vogliamo attivare, quindi possiamo scegliere se tutte le condizioni devono essere verificate oppure se almeno una condizione può essere verificata. Abbiamo per esempio il ruolo utente, quindi andiamo ad abilitare quello che è il ruolo utente e per esempio noi abbiamo detto Hide, possiamo per esempio scegliere di nascondere, vediamo un attimino, I Guest questa sezione, d'accordo? Oppure possiamo scegliere anche lo user meta, quindi determinare alcuni user meta. Adesso andiamo un attimino a vedere la parte solo relativa allo user role. Aggiorniamo, qua siamo loggati come amministratore, quindi dovremmo continuare a vedere questa sezione. Ed eccola qui, cosa diversa invece se noi apriamo una pagina di navigazione in incognito, quindi stiamo parlando di un utente guest, andiamo a vederla, ecco che la sezione è scomparsa, d'accordo? Quindi non viene proprio mostrata. Molto molto interessante questo addon. Possiamo aggiungere anche più ruoli, possiamo aggiungere più ruoli per i quali vogliamo che venga nascosta questa sezione. e abbiamo visto, abbiamo tutti i ruoli presenti, anche ruoli custom volendo, perché qua sono già i ruoli di e-commerce per esempio, quindi va a pescare tutti i ruoli. Poi stesse condizioni possiamo applicare, appunto come abbiamo visto prima, per quelli che sono gli user meta, quindi per qualche determinato user meta, non so, magari utenti che non hanno pagato, o qualche meta particolare anche che abbiamo inserito noi. questo dipende, entriamo un po' più nelle logiche di programmazione. Vediamo la data, quindi da una data, da una specifica data per esempio, ad un'altra data, questa sezione verrà nascosta per esempio. quindi se impostiamo la data di, direi di oggi, vediamo se, ok, qua ci dice anche qual è la data corrente, noi diciamo che facciamo da ieri a domani, magari, questa barra viene nascosta. Ricordiamoci che abbiamo dato come impostazione generale, tutte le condizioni devono essere verificate, quindi qua siamo loggati sì come amministratori, e quindi dovremo vederlo, ma, cioè la data, non siamo nella data in cui deve essere nascosto, ma siamo loggati come amministratori, quindi nessuna, cioè non sono verificate entrambi le condizioni, qua abbiamo messo all, dunque continuiamo a vedere questa sezione. Cosa ovviamente che continueremo a vedere nascosta nella navigazione in incognito, ma lo vediamo nascosto non soltanto perché siamo navigatori guest, ma anche perché siamo nelle date in cui viene nascosto. Se noi invece andiamo a cambiare l'impostazione da all a at last one, significa che almeno una condizione deve essere verificata, teoricamente se funziona giusto, basta che una condizione sia verificata, ed ecco infatti che anche come amministratore non vediamo più questa sezione, perché almeno una delle condizioni che abbiamo impostato è verificata. Se invece rimpostiamo su tutte, naturalmente come amministratore andremo nuovamente a rivedere questa sezione. Altre impostazioni che possiamo dare, sempre a livello gratuito, poi quelle pro le vedremo magari in un altro video, quindi qua possiamo scegliere il tipo di browser, quindi possiamo per esempio escludere dalla visualizzazione determinati parti del sito se per esempio usiamo un determinato browser, quindi non lo so, iPhone dei Safari, Firefox Chrome, Internet Explorer o Edge, quindi se vogliamo escludere qualche tipologia di browser, possiamo abilitare il Browse Type. Abbiamo anche, vediamo gli archivi, no, una sezione che è vuota, e queste sono altre sezioni appunto pro. Un'altra cosa che possiamo andare a vedere, andiamo direttamente su una singola, per esempio su una singola immagine, qua siamo su, siamo su i nostri chef, ok, qua siamo su, per esempio andiamo su queste immagini di divider o andiamo direttamente su un nostro, anche su un testo, eccolo qua, riquadro icona, smoking zone, possiamo impostare anche la visibilità su un singolo elemento della nostra pagina, quindi non per forza sezioni intere, ma anche possiamo intervenire su una singola colonna, no, sulle colonne no, sulla colonna non abbiamo, possiamo intervenire sulle sezioni, possiamo intervenire sui singoli elementi, e quindi possiamo scegliere cosa vogliamo mostrare e cosa vogliamo nascondere, quindi sulle sezioni interne, per esempio possiamo intervenire, sulle colonne come abbiamo già detto, no, in questo caso abbiamo delle colonne vuote, qua abbiamo una testimonianza, noi possiamo intervenire su un singolo elemento di questa pagina, in questo caso, quindi possiamo davvero andare a nascondere e mostrare ciò che più ci aggrada, è davvero un interessantissimo add-on, perché soprattutto per quanto riguarda la visualizzazione, per esempio banalissima, quella che va sul ruolo utente, quindi stiamo parlando di magari utenti loggati, utenti non loggati, se vogliamo nascondere determinate informazioni agli utenti che non sono loggati, in modo che gli utenti per esempio si registrino al nostro sito, ecco che con questo visibility logic, quindi con questo interessantissimo add-on, abbiamo la possibilità di nascondere intere sezioni o intere parti del nostro sito, se gli utenti magari non sono registrati, oppure perché no aggiungendo altre tipologie di condizioni per cui deve essere visualizzato o meno un elemento o piuttosto che una sezione intera. Stesso discorso è valido anche per le date, quindi non lo so, magari abbiamo un lancio, abbiamo un lancio di un prodotto, abbiamo qualcosa, vogliamo fare in modo che venga mostrata una determinata sezione, venga nascosta, perché l'impostazione che possiamo comunque dare, ricordiamoci che non è soltanto un'impostazione a livello di orario, di show, ma è anche a livello di ID, ma possiamo anche dire show, quindi possiamo dire che di base una sezione viene nascosta e viene mostrata solo se determinate condizioni lo permettono. Le date non solo hanno il from to, ma hanno anche il time from to, quindi da un orario a un orario, per esempio di tutti i giorni viene nascosto, viene mostrata una sezione, oppure settimane, quindi giorni della settimana, quindi vogliamo che, non lo so, il lunedì venga mostrata o venga nascosta una particolare sezione, mentre invece venga mostrata negli altri giorni della settimana, ecco che possiamo impostare queste logiche di funzionamento, di visualizzazione. Bene, io direi che per questo interessantissimo add-on per oggi è tutto. Bene, mi auguro che tu abbia trovato utile questo video, se comunque hai dei dubbi o delle domande, lasciamole scritte qua sotto nei commenti, così che magari posso aiutarti per quanto possibile. Se ancora stavi invece cercando qualche approfondimento relativo al mondo elemento, add-on, wordpress, temi, plug-in, e come si è spulciando all'interno del mio canale, non hai trovato quello che stavi cercando, lasciamolo anche questo scritto qua sotto, così che magari posso trovare qualche altro spunto, qualche altro suggerimento per qualche altro video, qualche altro appunto video di informazione, proprio come quello che hai visto adesso. In ogni caso, comunque, se questo video ti è piaciuto, metti mi piace, attiva la campanella qua sotto, e seguimi nei prossimi video. Ciao!